La liberalizzazione degli orari dei negozi è legge, qualsiasi esercizio commerciale potrà rimanere aperto quanto vuole. Mentre le associazioni dei consumatori sono favorevoli alle nuove regole previste dal decreto Salva Italia, c'è il no di Confcommercio e di Confesercenti. Non è questo il modo per far aumentare i consumi, sostiene Giuseppe Dall'Aquila dell'Ufficio Legale di Confesercenti. Attrarre vantaggio da questa legge, aggiunge, saranno soltanto le reti della grande distribuzione. Il segretario generale di Confcommercio Luigi Taranto sostiene che non si può liberalizzare solamente un settore, quello del commercio, tralasciando settori importanti come servizi pubblici locali e trasporto ferroviario. Ancora una volta si insiste sul settore del commercio, dimenticando che a partire dalla riforma Bersani del 1998, il settore del commercio è stato protagonista del più intenso processo di liberalizzazione realizzato nel nostro Paese. Restano invece al palo liberalizzazioni in settori importanti come i servizi pubblici locali, come il sistema delle professioni, come il trasporto ferroviario. Non va bene perché questo metodo di liberalizzazioni asimmetriche impedisce che costi e benefici delle liberalizzazioni si ripartiscono equamente tra tutti i settori dell'economia e della società italiana. Sulla liberalizzazione si è espresso anche il segretario del Partito Democratico, Pierluigi Bersani, sottolineando la loro importanza per modernizzare il sistema Italia e aprire spazi ai giovani, dando un po' di sollievo ai consumatori. A dire la verità cominciai nel 1998, poi nel 2006 fu la seconda tappa. E questo la dice lunga anche certamente sulle difficoltà, ma anche su un po' di coraggio che ci vuole. Il problema è che tutti un pochino siano disturbati perché tutti un po' possano migliorare. Noi abbiamo bisogno di modernizzare questo sistema e di aprire degli spazi per i giovani e di dare un po' di sollievo ai consumatori. E questo richiede delle misure, delle misure anche coraggiose, che vanno fatte con un tono, con un taglio che sia quello di un richiamo, come ha fatto il Presidente Napolitano nel discorso di fine anno, a tutto il Paese, a rendersi disponibile a un cambiamento. Non dobbiamo avere troppa paura di un cambiamento. Dobbiamo vederne gli effetti, dobbiamo vedere se ci sono degli scompensi, dobbiamo vedere se si creano situazioni di debolezza, di abbandono, da soccorrere. Ma guai se noi ci fermiamo davanti alla sfida del cambiamento. E certo, un insieme di liberalizzazioni, ben condotte, ben fatte, può dare spazio all'occupazione dei giovani e può dare, ripeto, un sollievo ai consumatori, che oggi hanno pochi soldi in tasca, francamente. Le liberalizzazioni saranno insomma al centro del dibattito nella famosa fase 2 del governo Monti. Secondo il sottosegretario Antonio Catricalà, dall'apertura del mercato si può ottenere un ornamento del PIL dell'1,5%, pari a circa 18 miliardi l'anno. E sempre più economisti sostengono che aprire il mercato è anche uno dei modi per attrarre investimenti dall'estero, senza concorrenze e con una chiusura dei mercati, che ha il coraggio di investire in Italia. Insomma, favorire la crescita economica e occupazione tramite le liberalizzazioni sarà l'obiettivo del governo Monti per cercare di uscire dalla recessione.